Un piccolo gesto, da gli effetti meravigliosi. E' di questa livella. Donare il sangue è una scelta per gli altri, ma anche una scelta per se stessi. Garantisce un controllo costante della salute attraverso visite mediche e accurati esami di laboratorio, eseguiti ad ogni preghiero. E la gratificazione morale di aiutare chi ne ha bisogno è impagabile. Perché fai bene il paese. Un donatore è una persona che controlla periodicamente il suo stato di salute, quindi è una persona sana. E le persone sane non pesano sulla spesa sanitaria nazionale. Chi si dedica al prossimo dimostra un gran senso civico e fa del suo paese un paese di io. Perché non fa male? Donare il sangue non comporta alcun dolore, non è dannoso per la salute ed è assolutamente scuovido. Perché tutti gli strumenti di azione sono buoni. Il sangue donato si riproduce nel nord.